Per la terza volta benvenuti alla pillola della rubrica drammaticamente grammatica della scuola del popolo di Oristano. Oggi parliamo dei pronomi. La parola stessa, che viene dal latino pro-nomen, al posto del nome, definisce questa parte variabile del discorso. La nostra lingua, ma tutte le lingue in generale, attraverso il pronome ci offrono il modo di non essere ripetitivi o ridondanti. Oltre al nome però, il pronome può sostituire anche un predicato, come ad esempio danzare è ciò che preferisce, oppure un aggettivo, eri buona, non lo sai più, o anche un'intera frase, dove sei andata, non lo hai detto. I pronomi sono di vario genere. C'è il gruppo dei determinativi, determinano cioè il nome che sostituiscono, che a loro volta si distinguono in dimostrativi, quando indicano qualcuno o qualcosa, questo e quello. I possessivi, quando c'è una determinazione di possesso, mio, tuo, vostro, i numerali. Quando c'è una determinazione precisa, tre, sette, un anno fa. Poi c'è il gruppo dei pronomi personali, che vengono utilizzati al posto del nome di una persona, io, tu, voi, i pronomi riflessivi, mi, ti, si, i pronomi relativi, chi, che, quale, la quale, così via, i pronomi interrogativi ed esclamativi, chi, che, cosa, quando, come, seguiti da un punto esclamativo o interrogativo. E poi i pronomi indefiniti, che non indicano con precisione qualcosa, ma sono abbastanza vaghi. Oggi trattiamo solo dei dimostrativi e dei pronomi indefiniti. Ovviamente tutti questi sono, per la quasi totalità, anche aggettivi. Pronomi dimostrativi indicano qualcuno o qualcosa determinandone la collocazione nello spazio o nel tempo e, con ogni probabilità, noi ce ne ricordiamo dalla scuola elementare e sono questo, codesto e quello. Questo indica qualcosa vicino a chi parla, codesto vicino a chi ascolta e quello indica qualcosa lontano sia da chi parla che da chi ascolta. Codesto non si usa quasi più, neanche probabilmente in letteratura. Quello e quella al singolare hanno una sola forma e non si apostrofano mai, proprio perché non sono seguiti da nessun nome o aggettivo, lo stesso per il plurale quelli e quelle. Altri pronomi e sono solo pronomi che sono dimostrativi ormai poco usati sono costui, costei, colui, colei e coloro. Invece sono pronomi ma anche aggettivi stesso, medesimo, identico, tale, cotale, altro e talaltro. Passiamo ai pronomi indefiniti che sono quelli che indicano qualcuno o qualcosa in modo generico e indeterminato e sono tutti i pronomi terminanti in uno, ciascuno, nessuno, qualcuno, alcuno, che non sono mai soggetti a troncamenti, tranne che davanti all'avverbio altro, nessun altro, qualcun altro, ovviamente senza apostrofo perché composti da uno che abbiamo visto che un non si apostrofa davanti a vocale. Ognuno e qualcuno possono avere anche il femminile ma mai il plurale, quindi non si scriverà mai qualcuni o ognune né tantomeno si dirà o si scriverà ognuno con la i. Poi abbiamo chi che sia e chiunque, sono solo singolari e solo in riferimento a persone. Poi abbiamo niente, sottolino niente e non niente, nulla, alcunché che sono pronomi negativi, qualcosa che che sono pronomi affermativi e sono riferiti a cose. Una particolarità dei pronomi indefiniti è che alcuno al singolare significa nessuno, non ho visto alcun ragazzo, mentre al plurale significa qualche o più di uno, ho visto alcuni ragazzi. Bene, per oggi questa pillola è terminata, ci vediamo alla prossima, arrivederci.